Perché ci aggrappiamo agli amori impossibili. Che titolo meraviglioso per dare sfogo a tutto il mio cinismo. Tranquilli, sarò buono. O forse no. Ho fatto un po' una ricerca e ho trovato due motivi fondamentali. Il primo è un po' più intuitivo, il secondo è più psicologico. Cerco di spiegarveli al peggio delle mie capacità. Allora, poi commentate sotto, ditemi che cosa ne pensate. Facciamo una bella community di persone maravigliose. Allora, il primo motivo è che oggettivamente un amore impossibile è un amore idealizzato e soprattutto è un amore totalizzante e in qualche maniera perfetto. Nel senso che è un amore che noi viviamo totalmente nella nostra mente e quindi possiamo plasmarlo a nostro piacimento, secondo i nostri bisogni. Possiamo leggere, ad esempio, nei messaggi che quella persona ci manda o non ci manda quello che vogliamo. Possiamo decidere quanto stare male, anche se ad un livello totalmente inconscio. Ma in realtà abbiamo la totale gestione del rapporto e questo per tanti è un bel vantaggio, che non devono confrontarsi con un rapporto reale. Il secondo motivo è più psicologico, o meglio, prettamente psicologico, e si rifà le teorie di Bolbi. Ora, non vi voglio angosciare troppo. Comunque, Bolbi, uno psicologo, rivedeva tre stili di attaccamento proprio nel bambino, che si formano nel bambino. Un attaccamento sicuro, quindi diciamo così equilibrato, e poi due tipi di attaccamento insicuri. Uno evitante e l'altro ambivalente. Quello evitante si forma nel momento in cui la figura di attaccamento, che di solito è la mamma, non è mai disponibile, nel momento in cui il bambino porta avanti una richiesta di aiuto. Quindi questo bambino o questa bambina svilupperà al proprio interno un'idea profonda del non meritare l'amore. È un po' come l'intima certezza che verrà rifiutata, che i rapporti emotivi profondi non andranno a buon fine. E quindi, chiaramente, nella propria vita adulta cercherà poi di, in maniera totalmente inconscia, riproporre, ricreare questo tipo di rapporto, andando a cercare un rapporto con persone che la rifiutano. Insomma, una sfiga terribile. Ovviamente adesso la domanda è come ne esco? Allora ragazze, perché soprattutto alle ragazze ci si rivolge, adesso scherzo un pochino meno. Quindi nel caso in cui vi capita di tanto in tanto di andarvene sotto, fra virgolette, per una persona che vi rifiuta, vabbè l'amore romantico, struggente, quello ci sta in normale. Nel momento in cui invece vi rendete conto che è una situazione che capita tutte le volte, quindi è un vostro sistema di comportamento, beh, probabilmente è il caso di chiedere aiuto a qualcuno. Vi assicuro che le amiche non sono assolutamente delle buone persone a cui chiedere aiuto, perché non sono specializzate. Invece un bel percorso di introspezione con un esperto, beh, sicuramente male non fa.